Ciao a tutti ragazzi, nuovo video, un altro video sempre recensione o liberi oggi voglio parlarvi di un oggetto di cui sono tantissimo soddisfatta perché è questo pantaloncino qui a vita alta, di jeans chiaro, tutto strappato, sgambato cioè io veramente un pantaloncino così lo cercavo, credetemi, da un anno io da un anno andavo in giro a cercare un pantalone del genere e quando l'ho trovato, tipo da Brandy Melville mi sembra, l'ho visto a 45 euro ho fatto no, cioè proprio no perché no, non è possibile e quindi l'ho trovato su ebay circa due settimane fa e mi è arrivato appunto pochissimi giorni fa infatti ci ho messo veramente pochissimo, circa due settimane con l'espedizione gratuita l'ho pagato 9,99 euro, quindi forse proprio per quello perché dato che diciamo che è sempre qualcosa di asiatico però su ebay le cose si aggirano intorno a un euro a massimo 10 euro 10 euro è proprio il massimo per poter trovare quindi un pantaloncino 10 euro per loro è tipo tanto invece per noi non è niente quindi magari sono più professionali quindi le cose arrivano prima perché magari fanno un altro tipo di spedizione non lo so, però comunque in meno di due settimane è arrivato questo oggetto qua che io veramente strano infatti l'ho usato tipo troppe volte infatti già mi si è ancora di più sgambato di quanto era perché l'ho usato tantissime volte la taglia è perfetta cioè perfetta allora io, allora, ci sono tre taglie la S, la M e la L le taglie sono asiatiche quindi non sono italiane quindi magari la vostra S è italiana non corrisponde alla S asiatica infatti nella descrizione dell'oggetto c'è una tabella con le taglie asiatiche S, M e L con accanto la conversione nelle taglie UK, quindi del Regno Unito e del USA, quindi degli Stati Uniti e non sempre europee che non sono quelle italiane this one's for you and me living out our dreams we're all right where we should be if my arms out wide I open my eyes